Il fronte mare di Ancona, Ascoli, sospesa tra passato e futuro, pesa orefano che allargano gli orizzonti comuni nel segno della musica e del carnevale. Idee e progetti che da visioni diventano investimenti concreti da realizzare nei prossimi 36 mesi. Le risorse utilizzate sono quelle FESR e FSE della nuova programmazione europea che la Regione Marche ha destinato agli investimenti territoriali integrati. È stata firmata la Convenzione che delega alcune funzioni amministrative ai comuni, permettendo così l'avvio degli investimenti sulla base della graduatoria emersa a seguito del bando riservato ai capologhi provinciali. Macerata e Fermo verranno successivamente finanziati con i fondi aggiuntivi destinati alle aree colpite dal sisma. 19 milioni è veramente una risorsa importante alla quale poi si aggiungeranno i cofinanziamenti dei comuni per andare a circa 30. Con l'idea finalmente di un progetto che riguarda le aree urbane, di grande efficacia, che tiene insieme la forza, la bellezza, le caratteristiche che hanno peculiari i nostri territori, con quelle risorse che sempre mancano per fare quel stato di qualità. Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, che è coinvolto Fano, comune non capoluogo ma il più popoloso delle Marche, hanno sviluppato progetti che guardano la vocazione della città, ideando uno sviluppo sostenibile, inclusivo, attraverso strategie integrate che legano le risorse agli obiettivi economici, sociali e ambientali delle proprie aree urbane, in stretta collaborazione con le realtà cittadine, in modo da massimilizzare le ricadute sul territorio. Il nostro si chiama From Past to Smart, dal passato verso il futuro. Ascoli è una città bellissima, meravigliosa, che ha bisogno però di connessioni, connessioni all'interno della cinta urbana, ma soprattutto connessioni con il resto del mondo. Quindi è un intervento che si collega con altri interventi importanti, quello di rigenerazione urbana finanziato dal governo e più complessivamente con una strategia ben definita, che è quella del nostro piano regolatore. Beh, intanto mi piace sottolineare un aspetto, che è uno strumento straordinario che stimola a una progettazione integrata e tende anche ad allargare gli orizzonti e non pensare a specifici progetti vincolati soltanto ad un singolo obiettivo. Sono progetti ambiziosi, nel nostro caso nasce anche da una collaborazione fra due città, Fano e Pesaro, e penso sia l'unico dei tre finanziati. Anche questo è un'evoluzione, perché sempre più dobbiamo cercare di allargare anche i nostri confini nella progettualità. Intanto è la prima volta che Pesaro e Fano si mettono insieme, soprattutto sui fondi europei, con un risultato eccezionale, direi. Quello del riconoscimento dell'ITI è fondamentale per i due comuni. Pesaro investirà sicuramente su quello che è la musica, stiamo lavorando su quello che è l'università della musica. Per noi l'ITI significa non solo Pesaro e Fano, ma addirittura tutti i 54 comuni che hanno trovato nella convenzione con il comune di Pesaro la strategia di guardare ad un territorio più ampio. Torno al rapporto con il mare abbiamo costruito tutta la progettualità di medio termine della città, in particolar modo i cinque grandi progetti per i quali siamo riusciti anche a conquistare i fondi. Tutti i progetti che interessano tutto il golfo della città di Ancona, cioè tutto l'arco della zona dove la città entra in rapporto con il mare nelle sue diverse declinazioni. Sono progetti che andranno in opera nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non solo belle idee, ma belle idee con le gambe. L'intervento proposto dal comune di Ancona prevede un costo complessivo di 7,78 milioni di euro. La regione riconosce 6,2 milioni. Il progetto di Ascoli Piceno richiede 14,1 milioni di euro, a fronte dei quali la regione assegna 6,748 milioni. Il progetto integrato di Pesaro e Fano si compone di 30 azioni che necessitano di un investimento complessivo di 9,2 milioni di euro, cofinanziati dalla regione con 6 milioni.